Sono quattro le siciliane che andranno a Fiuggi la settimana prossima per il concorso Star of the Year e sono tutte dell'ennese, Chiara Duca di Nicosia, Veronica Ciomo di Sperlinga, Dalila Puglisi di Enna, Marika Truscia di Enna. Si sono ritirate Alessandra Costa, Rossella Giardina entrambe di Agira e Noemi Bannò di San Giorgio. Mi chiamo Chiara Duca, ho 18 anni, vengo da Nicosia, sono una delle sette finaliste regionali del concorso Star of the Year. Tutto questo posso davvero dire che è molto emozionante, che andrà a costituire una nuova esperienza della mia vita, un'esperienza che comunque ricorderò per sempre. Star of the Year nasce con l'obiettivo di costituire un valido trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Possono partecipare al concorso tutte le ragazze d'età comprese tra i 14 e i 28 anni. Il concorso internazionale è stato ideato da Claudio Marini. Nella provincia di Enna, all'organizzazione, ha pensato il fotografo ennese Angelo Cappa. Mi chiamo Veronica Ciombo, vengo da Sterlinga, ho 20 anni, sono tra le sette finaliste del concorso Star of the Year. È stata una bella esperienza in quanto ci siamo divertite molto, ci siamo conosciute tra di noi, anche consigliato i vari abiti che dovevamo indossare durante la serata, e soprattutto in quanto oltre a sfilare mi hanno dato la possibilità di poter fare ciò che amo, che è appunto il ballo. Dunque il 30 di agosto si presenteranno a Fiugi, dove parteciperanno giorno 1 settembre ad una prima scrematura, e giorno 4 alla finalissima del concorso. Con la speranza che tutto vada bene, ci vediamo a Fiugi!